Allora, oggi non possiamo proprio uscire, è vero? Perché nostra mamma è un serpente, cioè è proprio cattiva, non ci lascia uscire, ci ha detto no, voi oggi state a casa, ma nostro padre l'ha morsa, l'ha staccato la testa. Dopo essersi fatto il filler l'ha morsa e l'ha staccato la testa, quindi la nostra migliore amica si è mangiata una mela perché ha detto tanto qua la situazione è critica, sai cosa c'è? Per consolarmi io mangio ed è per questo che è la nostra migliore amica. Così Crash mi ha regalato una scarpa. Lei ha regalato una scarpa per consolarla, una perché due costavano troppo, quindi noi abbiamo pianto quello che facciamo tutti i giorni, la storia della nostra vita.